E' ora a facoltà di parlare il Ministro dell'Interno Angelino Alfano. Prego Ministro. Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi associo alle parole del collega Gentiloni che riguardano tutto il Governo nella solidarietà alla Francia, agli amici francesi, al Governo francese e al popolo francese. Alla solidarietà alla Francia si è unita in queste ore la vicinanza dei governi di ogni Paese e della comunità internazionale, alle famiglie delle vittime, tra le quali non figurano, come sappiamo, solamente cittadini d'Oltralpe. Anche l'Italia è stata colpita dall'odio dei terroristi e lo è stata non solo come parte di un'Europa devastata, in quanto alcuni nostri concittadini hanno sperimentato di persona l'orrore e il desiderio di morte che è sembrato impossessarsi di Parigi nella notte di venerdì scorso. Consentitemi qui di esprimere il mio sincero cordoglio e la vicinanza ai familiari della giovane donna veneziana, Valeria Solesin, che ha trovato la morte nell'eccidio del teatro Bataclan e di ricordarne la figura di valorosa italiana che era lì per godere della propria libertà. I fatti di Parigi dimostrano con una eloquenza crudele che nessun Paese può considerarsi completamente al sicuro dal rischio di un attacco terroristico. Come ho detto infinite volte e mi ostino ancora a ripetere, non esiste il livello zero di rischio. Esiste piuttosto, e ne parlerò diffusamente, la possibilità di agire sul suo coefficiente, cioè sul coefficiente di rischio, per fare sì che ne vengano ragionevolmente ridotte il più possibile la dimensione e la capacità di incidenza. Ma veniamo alla ricostruzione di ciò che è avvenuto nel nostro Paese subito dopo gli attentati. La risposta da parte del sistema di sicurezza è stata immediata, consentendo, fin dalle prime ore successive a quegli eventi, di adottare ogni misura di prevenzione considerata adeguata alla evoluzione in atto della minaccia. Una prima circolare del Capo della Polizia indirizzata a tutti i prefetti e questori d'Italia è diramata nella tarda serata di venerdì scorso. Con quella circolare è stato innalzato il livello di allerta al grado 2, corrispondente a quello di rischio elevato, immediatamente inferiore al livello attivato nei casi di attacco terroristico in corso. Chiarisco subito che la elevazione dello stato di allerta non corrisponde al fatto che in concomitanza con gli eccidi di Parigi siano stati registrati segnali ritenuti indicativi di specifiche iniziative terroristiche che abbiano a bersaglio il nostro territorio o interessi riconducibili all'Italia. Vuol dire piuttosto che le attività di prevenzione sono dispiegate al loro massimo grado, come è giusto e naturale che sia all'indomani di un atto di siffatta violenza. Il che comporta, ad esempio, un'attenzione ancora più elevata nello svolgimento di tutte quelle attività di prevenzione che sono svolte presso i più importanti snodi di traffico, stazioni ferroviarie, scali portuali e aeroportuali e che comportano o possono richiedere il controllo meticoloso dei passeggeri e le ispezioni di bagagli e merci. È proprio quello che è accaduto nelle ore successive ai fatti di Parigi, allorché è stata intensificata la vigilanza sui treni da e verso la Francia, nonché all'interno delle stazioni che sono poste lungo la relativa fascia di confine. L'innalzamento dell'allerta consente anche l'attivazione rapida, naturalmente in caso di necessità, dei reparti speciali delle forze di polizia, in particolare di Nox e Gis e delle forze speciali militari chiamate a entrare in azione in scenari di particolare complessità operativa. Tornando alle iniziative assunte all'indomani degli attentati di Parigi, riferisco che la mattina del 14 novembre è stata convocata una riunione del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, il CASA, che ha proceduto ad una prima analisi degli eventi parigini. Anche sugli elementi emersi in quella riunione si è fondata la seduta straordinaria del Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, presieduta al Viminale poco dopo dal Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi. È in quella sede che si è stabilito di anticipare l'utilizzazione a Roma del contingente ulteriore di mille uomini delle forze armate, il cui impiego, finalizzato alle specifiche esigenze del giubileo, era stato deciso il giorno prima dal Consiglio dei Ministri, nell'ambito del decreto legge dedicato non solo a Roma, ma anche ad altre specifiche esigenze territoriali. Mentre vi parlo, si stanno avviando le operazioni di dispiegamento immediato di 700 militari, a cui nei prossimi giorni si aggiungeranno le altre unità che completeranno questo dispositivo supplementare. Tengo a sottolineare che si tratta di un nucleo aggiuntivo, cioè di uomini in più messi a disposizione della Capitale, proprio in ragione delle maggiori esigenze di controllo derivanti dal giubileo. Preciso, infatti, che a Roma è già a disposizione del Prefetto un contingente di 1.300 militari, precisamente 1.296, nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, che ha visto nel 2015 l'impiego di 4.800 uomini più i 1.800 di Expo in tutto il territorio nazionale e altrettanti ne vedrà nel 2016 in forza delle previsioni inserite nella legge di stabilità. Ho detto e lo ripeto che il ricorso alla utilizzazione di aliquote delle Forze Armate non corrisponde al disegno di militarizzare la Capitale. Il concorso delle Forze Armate sarà misurato e proprio in quanto tale circoscritto e limitato soltanto al presidio fisso degli obiettivi sensibili. Questo consentirà di ottimizzare gli sforzi e di poter disimpegnare un numero corrispondente di risorse, di risorse ovviamente delle forze di polizia, per utilizzarle in impieghi operativi e info-investigativi destinati alla prevenzione e al controllo del territorio. Del resto Roma è adeguatamente presidiata dalle nostre forze di polizia ed è il caso di ricordare che la forza effettiva, cioè concretamente dispiegata nella Capitale e nel territorio della provincia, è di poco superiore a 24.000 unità, tra Polizia di Stato, che concorre con l'aliquota più consistente pari a 11.694 operatori, Arma dei Carabinieri che ne conta 7.438 e Guardia di Finanza che a sua volta ne impiega 4.897. Comunque, nonostante tali ragguardevoli numeri, è previsto un potenziamento ulteriore degli organici che non riguarderà solo Roma, ma interesserà anche altre attività italiane particolarmente rappresentative nella prospettiva dell'evento giubilare per la presenza di significative vestigia della cristianità. Intanto sono state assegnate a Roma 1.197 unità aggiuntive delle forze di polizia. Inoltre, a partire dal prossimo mese di giugno, in virtù di nuove assunzioni autorizzate dal Decreto Legge numero 78 di quest'anno, saranno impiegabili altre 2.500 unità, la cui parte preponderante verrà simmetricamente divisa tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, e cioè 1.050 ciascuno, mentre un'aliquota di 400 uomini verrà invece incorporata dalla Guardia di Finanza. Fin da questo mese si procederà inoltre ad assicurare un rinforzo anche ai presidi di polizia ubicati in alcuni centri del turismo religioso che con l'anno giubilare alle porte vedranno sicuramente incrementati i flussi di pellegrini. Mi riferisco alle città di Padova e Perugia, ma anche ad Ancone e Foggia in relazione alla Santa Casa di Loreto e al Santuario di San Giovanni Rotondo. Nella stessa giornata di sabato il Capo della Polizia ha diramato una seconda circolare di allertamento. È stata richiamata l'attenzione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza su alcune essenziali attivazioni dettate dal particolare momento. In questo ambito è stata sottolineata la necessità che venissero incrementate quelle particolari attività che il nuovo contesto emergenziale ha reso prioritarie. Sono stati pertanto implementati i controlli delle arterie stradali, delle reti ferroviarie e avalichi di frontiera, in particolare rafforzando con l'invio di ulteriori uomini i principali punti di transito con la Francia, anche in esito a intese intervenute con le stesse autorità di sicurezza transalpine. Riguardo al possibile rischio di atti eclatanti anche sul nostro territorio, è stato poi richiesto l'aggiornamento dei piani che prevedono l'impiego ovviamente eventuale delle unità operative di primo intervento della Polizia di Stato, costituite presso alcune questure dopo l'attentato alla redazione di Charlie Hebdo. Si tratta di speciali task force destinate a fronteggiare, grazie al loro addestramento, le situazioni di intervento più critiche. Contestualmente è stato disposto l'aggiornamento del quadro di analisi degli obiettivi sensibili per adeguare le misure di vigilanza e i piani provinciali antiterrorismo e di emergenza alle diverse condizioni di rischio. Signora Presidente, onorevoli colleghi, naturalmente la predisposizione di pianificazioni di sicurezza dedicate all'evento giubilare risale a ben prima che si consumassero i tragici attentati del 13 novembre. Una direttiva generale per la pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e la gestione integrata delle emergenze è stata diramata dal Dipartimento della pubblica sicurezza ai prefetti e questori d'Italia lo scorso 22 di ottobre. Il metodo che si sta seguendo vede chiamati in causa diversi gruppi e tavoli di lavoro tecnici perché di fondo il lavoro svolto fin qui ha inteso fortemente valorizzare e proseguirà a farlo i principi di sinergia, collegialità e coordinamento. Vale a dire che si sta operando con la massima consapevolezza di dovere coinvolgere ogni componente del sistema di prevenzione e ogni componente del sistema di sicurezza allo scopo di fare sì che le possibili ipotesi di rischio trovino la loro risposta in una specifica e studiata contromisura. La governance centrale di questo complessivo dispositivo di prevenzione è naturalmente assicurata dal Dipartimento della pubblica sicurezza e ha fondamentalmente il compito di delineare e aggiornare costantemente gli scenari di rischio e conseguentemente elaborare le misure organizzative, tecniche e gestionali finalizzate ad assicurare il migliore svolgimento del giubileo e delle iniziative ad esso collegate. Come accennavo vorrei precisare che vi è una collaborazione continuativa con tutte le altre competenti articolazioni dello Stato a vario titolo interessate dall'evento giubilare. Il raccordo operativo ed informativo è stato attivato quindi sia con il comando operativo di vertice interforze del Ministero della Difesa sia con il Ministero degli Esteri, in particolare per garantire i dispositivi protettivi in favore delle personalità e delegazioni straniere che interverranno alle cerimonie in programma. Il cuore di questo modello che fa dell'esperienza italiana una delle più avanzate del mondo dell'intelligence è rappresentato dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo che siede presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. È questo l'organismo motore, cioè il luogo istituzionale di alto coordinamento in cui le articolazioni antiterrorismo delle forze di polizia e gli organismi di informazione e sicurezza del Paese lavorano fianco a fianco con metodica frequenza attivando uno scambio osmotico il cui risultato finale è quello di rafforzare il patrimonio di notizie e il bagaglio informativo di ciascun attore. In questa sede viene costantemente affinata l'analisi circa l'evoluzione dei vari scenari di rischio ed è da questa sede che il sistema genera in direzione di tutti i protagonisti della sicurezza gli alert necessari a mantenere sempre alta la guardia. È una metodologia che io stesso ho portato come esempio di best practice italiana, suscettibile di essere trasposta nei fori di cooperazione internazionale, coinvolgendo più strettamente le diverse agenzie nazionali e anche organismi come Europol e Interpol. L'impegno dei singoli Paesi infatti è una condizione insufficiente rispetto alla globalità e diffusività della minaccia jihadista capace di mimetizzarsi abilmente nelle società europee eludendo controlli e verifiche di polizia. Vorrei aggiungere che la consapevolezza di acquisire e veicolare informazioni con la più ampia circolarità è il fondamento operativo di un gruppo tecnico del Consiglio europeo, il Police Working Group on Terrorism, il cui mandato è stato opportunamente orientato al contrasto dei combattenti stranieri. Il fatto nuovo, evidenziato dalla tragica sequenza di morte di venerdì sera, sta nell'apparente casualità degli obiettivi prescelti dal comando degli attentatori. Non più luoghi simbolo dell'opposizione anche culturale al jihad, come fu a gennaio di quest'anno in occasione della strage di giornalisti satirici di Charlie Hebdo. Non più obiettivi sensibili riconducibili a interessi di Paesi ritenuti ostili, verso i quali si è sempre indirizzata la furia distruttrice dei kamikaze. Il bersaglio dei terroristi in azione è rappresentato stavolta da una molteplicità di quelli che gli analisti definiscono i soft target, luoghi di aggregazione comune destinati in varia forma allo svago e al divertimento, un bar, un ristorante, uno stadio, una sala concerti, il che sembra seguire una perversa logica di attacco frontale alle libertà più elementari, ai nostri stili di vita, al nostro stesso modo di essere. Non dobbiamo tuttavia nemmeno perdere di vista quelli che ancora consideriamo gli obiettivi più appetibili legati alla essenza della minaccia terroristica e al suo fanatismo ideologico di matrice religiosa. È del tutto naturale quindi che il livello di preoccupazione possa crescere in coincidenza con l'imminente avvio del giubileo straordinario della misericordia e del resto. La persona del pontefice, il Vaticano, Roma e gli altri simboli della cristianità sono già stati al centro di dichiarazioni minacciose incitanti alla distruzione e all'odio, come quelle che nel settembre del 2014 e anche a gennaio di quest'anno sono state pronunciate da Mohamed Al-Adnani, il portavoce dell'Islamic State, e poi diffuse attraverso il web, cioè l'arma di comunicazione strategica più suggestiva e potente utilizzata dal terrorismo islamico. Ed è per questo motivo che la pianificazione dei dispositivi di sicurezza relativi allo svolgimento dell'anno santo si concentra sui punti più sensibili e a rischio, a cominciare da Piazza San Pietro, dove confluiranno imponenti masse di visitatori e pellegrini, soprattutto in occasione delle cerimonie più significative del giubileo. Il loro afflusso seguirà percorsi prestabiliti e il filtraggio verrà eseguito sia in transito, con l'ausilio di metal detector portatili, sia all'atto dell'accesso alla piazza, con il passaggio obbligato attraverso nuove postazioni fisse munite di dispositivi di ultima generazione. Una particolare attenzione è dedicata al rischio che un attacco terroristico possa essere portato dall'alto, utilizzando anche dispositivi aerei a pilotaggio remoto, meglio conosciuti con il nome di droni. Vorrei rassicurare che ogni aspetto di una possibile minaccia aerea è stato approfondito a livello interforza e interdisciplinare, coinvolgendo anche l'aeronautica militare, l'ENAC e l'ENAV, riguardo alla estensione dei provvedimenti che andranno a interdire il sorvolo durante l'intero periodo del giubileo. Del resto, la questione del controllo dello spazio aereo viene attentamente seguita anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso la quale è stato istituito un tavolo di coordinamento ad hoc dedicato sia all'analisi delle criticità che alla individuazione delle soluzioni operative. Signora Presidente e onorevoli colleghi, gli eventi francesi di venerdì dimostrano senza ombra di dubbio che ha aumentato notevolmente il grado di temibilità della minaccia jihadista. Essa, indirizzandosi ora su obiettivi nuovi, mai prima considerati fra quelli sensibili, mostra caratteri di imprevedibilità che rendono assai più ardua l'attività di contrasto e soprattutto quella di prevenzione. La vicenda francese di questi giorni sembra offrire una nuova chiave di lettura all'offensiva terroristica, ed emerge ancora più nettamente dunque la necessità che la piaga del terrorismo islamico venga affrontata dalla comunità internazionale unitariamente con iniziative sistemiche e con un fronte largo di alleanze. Questa istanza di coesione l'abbiamo sempre sostenuta e particolarmente caldeggiata a livello internazionale associandola a un continuo impegno di rafforzamento del nostro sistema di sicurezza. I dati sulla operatività raggiunta nel corso del 2015 stanno a dimostrare quanto serio e tenace sia lo sforzo prodotto e non possiamo negare in quest'Aula che nella drammatica cronologia del terrore che dall'avvio di questo secolo e dall'avvio di questo millennio ha distrutto, dal punto di vista del dolore, tantissime comunità nel mondo, l'Italia non è stata coinvolta. E i dati sull'operatività raggiunta sono significativi e lo sono nei vari contesti operativi. Sono state controllate dal 1 gennaio di quest'anno 56.426 persone e sono state eseguite 540 perquisizioni su soggetti in vario modo legati al terrorismo. Sono stati controllati o perquisiti oltre 8.000 veicoli, 160 navi e voglio chiarire che non si è trattato di controlli occasionali ma di mirate verifiche che hanno riguardato soggetti sui quali, grazie ad una accurata attività di osservazione, si era appuntata l'attenzione degli organi investigativi. E sono stati dunque anche consistenti gli esiti che ne sono seguiti. Sono state arrestate 147 persone, indagate in stato di libertà più del doppio, cioè 325, ed espulse e rimpatriate altre 55 per motivi di sicurezza dello Stato o di prevenzione del terrorismo. Soggetti radicalizzatisi, imam, donne e uomini che avevano dato a che pensare ai nostri sistemi di sicurezza e che sono stati espulsi. Notevoli risultano anche le recenti operazioni che hanno portato al rintraccio di due cittadini stranieri con precise evidenze di appartenenza a gruppi estremisti, un pakistano e un tunisino e quest'ultimo già espulso dopo una condanna per terrorismo rientrato in Italia ma immediatamente individuato ed espulso una seconda volta. Inoltre sono stati sistematicamente controllati i luoghi di aggregazione culturale e religiosa collegati all'islamismo con un'attenta attività di monitoraggio e censimento. E ripeto, sono stati individuati e allontanati gli imam più pericolosi responsabili dei processi di radicalizzazione e di incitamento alla violenza. Perché questa è una grande democrazia, il nostro è un grande Paese. Noi riconosciamo il diritto di culto e il diritto alla preghiera. Noi diciamo al 1.600.000 musulmani che sono presenti in Italia che noi sappiamo ben distinguere chi prega da chi spara. Chi prega continui a pregare, prenda la distanza da chi spara. Noi cacceremo e inseguiremo coloro i quali sparano e coloro i quali vogliono dare solidarietà a quelli che sparano ma sapremo ben distinguere che la preghiera è una cosa diversa dal crimine. È stata posta in essere dunque un'attività incessante e continua di prevenzione. Un'attività anche e perciò grigia e faticosa. E l'attività di prevenzione è per sua costituzione stessa tendente ad evitare che si verifichi un evento negativo e dunque il mancato verificarsi di un evento non produce la soddisfazione di un giorno. È il repilogo di questi dati che ci conforta sulla tenuta degli apparati di sicurezza ma non può certo illuderci sulla invulnerabilità del nostro Paese e però al tempo stesso ci obbliga in questa occasione ad un sentito grazie a tutte le donne e gli uomini in divisa, delle forze dell'ordine e delle nostre forze armate e i nostri militari, agli uomini e alle donne della nostra intelligence che con grande forza e con grande sacrificio hanno lavorato per proteggere il nostro Paese. Il confronto tra il Presidente del Consiglio e i capigruppo parlamentari è stato un momento di unità in cui sono prevalsi sentimenti di coesione nazionale e un forte richiamo alla responsabilità delle forze politiche. E spero che il passare dei giorni non spenga questo spirito unitario perché tra poco il Parlamento licenzierà la legge di stabilità del 2016. E già nelle dichiarazioni di queste ore si intravede la consapevolezza che occorra riconsiderare ancora in meglio, dopo alcuni anni con il segno più, le risorse destinate alla sicurezza per adeguarle a questi sforzi aggiuntivi. E credo che questa potrà essere una prima prova concreta e significativa di una reale coesione nazionale. Una coesione nazionale che si rende necessaria. E concludo, Signora Presidente e Onorevoli colleghi, perché siamo tutti consapevoli che stiamo vivendo la storia di governi e popoli in lotta per la libertà, minacciati da chi pretende con la violenza di affermare l'esistenza di uno Stato cancellandone altri. Questa che stiamo vivendo è la storia della megalomane ambizione di un uomo che si pretende califo e della folle corsa di migliaia di giovani europei che credono di poter purificare la propria anima uccidendo in nome di Dio. Un Dio che non avrebbe mai consentito questa barbarie. E mai come ora è chiaro a tutti che sicurezza e libertà sono due parti di un unico insieme. È per questo che continueremo a fare tutto ciò che è possibile e umano per garantire la sicurezza, perché vogliamo difendere la nostra libertà. I nostri padri, Onorevoli colleghi, i nostri nonni sono morti per donarcela. Noi non ce la faremo rubare. Vi ringrazio.